Ciao amore, abbiamo appena finito di allenarci, ti stai allenando bene, ci proviamo, ci proviamo e dopo un allenamento cosa ci vuole? La seppia, una bella seppia che ti ha preso il tuo gioia, già la seconda in poco tempo Guarda che buona, guarda, 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 hai visto? Gioia, buona cena, vediamo cosa ne esce, dai che la seppia è una vera bontà, ciao Ciao, ciao Hai visto che bella Gioia? Bella, bella veramente Dal produttore al consumatore Che meraviglia Posso pulirla? Gioia, come la stiamo preparando questa bella seppia? Inumido Inumido con le patate? Con le patate, sì Vediamo che ne esce, dai, dai Abbiamo il mare qua in tavola, tutta per te questa bella seppia, Gioia Grazie Te la fai assaggiare? Sì, certo Grazie Iniziamo con un po' di cipolla Fai Gioia, aggiungiamo la seppia? Sì Ok Un po' di sale Bello, vero? Sì Bello, bello, bello C'è un po' di sale C'è un po' di sale Gioia Gioia, oggi proviamo allora questa ricetta, eh? Sì La seppia inumido con le patate, dai Va bene che la seppia fresca in qualsiasi modo la fai, o sbaglio? A punta Anche cruda No, anche inumida In tutti i modi, in tutti i modi è buona, Gioia Abbiamo aggiunto anche le patate Ora cosa manca all'appello, Gioia? La salsa Salsa Eccola qua E poi E poi qualche olivo Sì Sì, vai Gioia Sì un po' di acqua un po' di peperoncino che ci sta chiudiamo Gioia? si chiudiamo ecco qua stai aggiungendo le olive amore? si olive nere? olive nere si che buone ce n'è profumo Gioia? tantissimo mamma mia sembriamo in trattoria ah se potessero sentire ragazzi questo profumo anche la visuale credo che abbia molto da dire sulla bontà di quello che stiamo cucinando Gioia ultimata la cottura? si mi sa di si dai mi sa di si siamo pronti? si impettiamo va bene prepariamo i piatti che bontà che bontà Gioia 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 hai visto che ti ho detto che la ricetta era buona? buona veramente è stata hai visto una bella seppia in umido con le patate e le olive e che profumo eh vediamo vediamo e che profumo guarda che c'è qua ci abbiamo in mare in tavola vero grazie grazie a te amore guarda che c'è qua guarda che c'è qua mamma mia ho l'acquolina in bocca e dopo ci beviamo pure il garzellino vino semplice ma buono noi beviamo cose semplici non siamo fighettini amore buon appetito grazie questa è bontà di mare che è il tuo Gioia ti prepara e soprattutto ti raccoglie sempre ciao amore grazie un bacione grande ciao 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 buon blu e buon maratuti buon blu e buona tavola sempre dal produttore al consumatore ragazzi ciao ciao